Ciao ragazzi, buongiorno, buongiorno da Vimbacco. Oggi ci siamo aperti un buon vino spumante Valentino, riserva 2005, sboccato nell'autunno del 2017. Io l'ho aperto una mezz'oretta fa, l'ho servito appunto nel calice. Come primo esame andiamo sull'esame visivo, un giallo veramente dorato, molto carino, una bella presa di spuma. L'abbiamo lasciato aprire un po' in modo tale che i lieviti evaporassero un po' nell'aria. Andiamo all'esame olfattivo. Ha un ottimo bouquet speziato, ricorda lieviti, lieviti di pasticceria. All'esame gustativo ha una buona acidità, si sentono anche qui la percentuale di lieviti presente all'interno del vino. Ricordatevi che questo vino ha 15 anni, quindi per un vino spumante è comunque una nata importante. Noi questo vino l'abbiamo abbinato a dei gamberi rossi e ad un filetto di branzino marinato. Ma anche se è ottimo con la pastiera. Secondo me con la pastiera napoletana è perfetto, perché è una buona acidità che compensa la dolcezza del dolce e della pastiera. E le bollicine e la CO2 sgrassano un po' la grassezza appunto presente all'interno del dolce. Ci vediamo presto. Ciao!